salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo grazioso top granny bimba con la mattonella granny triangolare margherita guardate è semplicissimo da fare e soprattutto veloce e ci vuole pochissimo filato quindi con 50 grammi di cotone fate il top e con bazzecole proprio fate la margherita e questi queste rifiniture con altri colori voi potete utilizzare altri colori ho utilizzato tre colori a parte il bianco e il giallo della margherita utilizzato due colori per fare il top intero qui ho fatto i laccetti per legare al collo quindi con la partenza del del collo e qui dietro guardate ho fatto il laccetto per legarlo dietro quindi anche diciamo facile da indossare soprattutto per le bimbe che magari non vogliono cose complicate qui potete anche utilizzare se lo fate più lunghetto e quindi magari può anche arrivare alla vita in base dove lo volete far arrivare utilizzare un bottoncino è un progetto che vi avevo promesso con questa mattonella ed eccolo qua spero che sia gradito anche perché per i bimbi li possiamo fare veramente di tutti colori e quindi farli sfoggiare per tutta l'estate prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tiktok e lì cercherò con delle storie dei post e di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollicello in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone ighi ma potete utilizzare comunque anche il fiocco cotone numero 5 comunque quello che vi ritrovate colore giallo bianco rosa chiaro e rosa scuro lavorerò il tutto con uncinetto numero 3 e poi avrò bisogno un paio di forbici ho realizzato già le due mattonelle granny triangolari margherita trovate il tutorial nel video precedente quindi già avete comunque il video per realizzarle io l'unica cosa che ho fatto è aggiungere un giro in più semplicissimo da fare perché riprendete sempre dall'angolo fate l'angolo per come avete fatto lavorate negli spazietti quindi i gruppetti in questo caso nel giro successivo non lavora di tre ho rifatto l'angolo sempre 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte ho continuato così quindi ho fatto la lavorazione uguale al giro precedente quindi per farli pure ancora più grandi potete fare giri in più sempre lavorando gli angoli allo stesso modo e negli spazietti che si creano fra i gruppetti lavorare gli altri gruppetti ora siamo pronti a continuare il nostro progetto ora faremo l'unione delle due mattonelle quindi giriamo e iniziamo nella parte sotto quindi questo è dove poi inseriremo i laccetti per legare e qui è la parte da unire prendiamo il cotone sempre rosa scuro ci inseriamo all'interno facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e lavoriamo altre 23 scusate maglie alte quindi in questo caso nell'angolo laterale abbiamo lavorato 3 maglie 4 maglie alte iniziamo la lavorazione nella parte di sotto così facciamo anche l'unione delle due mattonelle quindi giriamo il lavoro qui mi sono portata la codina qui vicino l'angolo prendiamo il cotone dello stesso colore in questo caso rosa scuro realizziamo 3 catenelle ci ci sostituiscono la prima maglia alta ne aggiungiamo una di separazione rientriamo e lavoriamo 3 maglie alte un attimino tiriamo la codina ecco così la fermiamo con la lavorazione stessa andiamo nel nello spazio successivo e lavoriamo le tre maglie alte e facciamo la nostra lavorazione gremmi fino ad arrivare all'angolo centrale arrivati qui nello spazio centrale quindi all'altro angolo lavoriamo tre maglie alte 12 e 3 prendiamo l'altra mattonella sempre qui nella parte dove c'è la fine del lavoro entriamo e lavoriamo nella nell'angolo dell'altra mattonella tre maglie alte 2 e 3 e continuiamo la nostra lavorazione gremmi fino ad arrivare all'angolo 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 arrivati qui all'angolo entriamo nell'angolo e lavoriamo tre maglie alte due e tre una catenella e una maglia alta come abbiamo fatto all'inizio e abbiamo terminato guardate abbiamo unito le due mattonelle ora voltiamo il lavoro ci realziamo con tre catenelle aggiungiamo una catenella ed entriamo nello spazio che abbiamo fatto della catenella del giro precedente e lavoriamo tre maglie alte due e tre continuiamo a lavorare la nostra lavorazione sempre gremmi e sempre negli spazi dobbiamo lavorare sempre gruppetti di tre maglie alte fino ad arrivare all'angolo successivo quindi qui arrivati qui al centro lavoriamo qui dobbiamo lavorare qui scusate dobbiamo lavorare qui e poi fino ad arrivare a questo angolo arrivati qui alla fine abbiamo fatto le tre maglie alte facciamo la catenella e la maglia alta ci realziamo sempre con le tre catenelle quindi voltiamo il lavoro ci lavoriamo le tre catenelle e la catenella aggiuntiva entriamo nello spazio e lavoriamo il primo gruppetto di tre maglie alte continuiamo la nostra lavorazione gremmi in ogni spazio che abbiamo a disposizione qui dove abbiamo lavorato il gruppetto al centro lavoriamo di qua e di qua quindi una lavorazione gremmi normale e alla fine nell'ultimo spazio lavoriamo le tre maglie alte una catenella è una catenella è una maglia alta nello stesso spazio e continuiamo così come vedete nella parte laterale allarga quindi tende ad allargare anche la lavorazione nella parte sotto che ci serve appunto per poter poi fare il pezzetto più lunghetto per poterlo poi allacciare nella parte dietro quindi lavoriamo sempre in questo modo sempre facendo i laterali uguali e la lavorazione gremmi in modo normale per la lunghezza desiderata quindi se lo volete fare più corto più lunghetto comunque fate i giri occorrenti e ci rivediamo quando abbiamo terminato per continuare insieme ho proseguito la lavorazione del top guardato inserito anche due giri di rosa chiaro che è il rosa che ho utilizzato guardate qui nella mattonella iniziale proprio dopo la margherita dopo di che vi do le misure in lunghezza parliamo sempre nella parte sotto siamo a 10 cm circa in larghezza siamo a 40 cm però tenete conto che è molto flessibile come lavorazione quindi siamo un po' di più di 40 cm io in questo caso mi fermo voi in base alle misure in base quanto lungo lo volete lo potete fare ancora più cortino vi adeguate comunque alle misure se lo volete più lungo continuate questa lavorazione più corto fate dei giri in meno allo stesso tempo vi volevo dire se lo volete fare per una bimba più piccola perché questo ricordo che è circa 7 anni la bambina nella mattonella iniziale non lavorate il giro in più che ho fatto io fate la mattonella granny margherita originale per come il video tutorial che trovate sul canale e fate l'unione e fate la stessa lavorazione e vi ritroverete il top più piccolino allo stesso modo se lo volete fare più grande fate qualche giri in più e poi con la stessa lavorazione ora continuiamo non ho tagliato il filo perché ho fatto l'ultimo giro e sono arrivata a questo punto ora da questa parte quindi sia da una parte che dall'altra dobbiamo inserire delle catenelle per poter fare un laccetto che poi chiuda dietro quindi io in questo caso ne inserirò 50 50 catenelle perché io sono quasi arrivata già alla larghezza desiderata se voi ad esempio me ne occorre qualche dei centimetri in più fate più catenelle quindi lavoriamo 50 catenelle e ci rivediamo dopo che le abbiamo fatte fatte le nostre 50 catenelle entriamo nella prima catenella facendo una maglia bassissima quindi proseguiamo lavorando torna quindi torniamo indietro lavorando delle maglie bassissime su ogni catenella quindi creiamo il primo laccetto arrivati qui all'inizio della lavorazione entro nel punto iniziale dopodiché mi aggancio al primo guardate alla maglia alta dell'angolo mi rialzo con due catenelle entro nuovamente nella maglia e lavoro due maglie alte entro nel foro successivo e mi chiudo con maglia bassa mi rialzo con due catenelle due maglie alte e mi aggancio sempre nell'altro punto quindi nell'altro foro maglia bassa e continuo questa lavorazione due catenelle due maglie alte qui andiamo nell'altra nell'altro foro maglia bassa due catenelle due maglie alte quindi faremo questo tipo di rifinitura per tutto il top quindi facciamo questa lavorazione fino ad arrivare qui in cima abbiamo lavorato guardate tutta questa parte fino ad arrivare qui nella parte di sopra dove dobbiamo fare una catenella di 80 quindi da qui partiamo con 80 catenelle e ritorniamo a maglia bassissima come abbiamo fatto per il primo laccetto quindi facciamo le 80 catenelle le ricopriamo con maglia bassissima e ci rivediamo a questo punto fatte le nostre catenelle con maglia bassissima ci entriamo nuovamente nel nel punto sempre centrale con maglia bassa quindi ci chiudiamo con maglia bassa da qui facciamo partire due catenelle e iniziamo a fare questi piccoli ventaglietti anche da questa parte quindi facciamo le due maglie alte ci agganciamo qui nello spazio così e continuiamo a lavorare fino ad arrivare a questo punto arrivati qui abbiamo fatto il nostro gruppetto e ci chiudiamo con maglia bassa nell'ultimo foro allo stesso modo entriamo direttamente con maglia bassa nel foro dall'altra parte quindi qui rimane questo buchino e da qui lavoriamo la il gruppetto quindi la rifinitura e ci agganciamo all'altro quello ecco visibilmente viene fuori e questo nella parte interna dopodiché qui dobbiamo continuare a lavorare in modo speculare all'altro qui è arrivato qui partiamo facciamo 80 catenelle ritorniamo indietro a maglia bassissima ci ricolleghiamo e lavoriamo tutta la lavorazione che abbiamo fatto dall'altra parte arrivati a questo punto dobbiamo fare le 50 catenelle ricoprirle con maglia bassissima e dopodiché proseguiremo insieme quindi questa altra parte di lavorazione dovete seguire esattamente quello che abbiamo fatto nella prima parte e ci rivediamo per fare l'ultima parte ho lavorato tutto il contorno e le 50 catenelle laterali ora mi riaggancio qui nel nell'angolo mi rialzo con due catenelle rifaccio e le due maglie alte quindi faccio la stessa lavorazione anche nella parte sotto così quindi l'abbiamo rifinito tutto inserendo anche i nostri le nostre catenelle per poterlo legare sia sulla schiena e sia al collo quindi continuiamo così in fino alla fine così abbiamo terminato il nostro top arrivati qui alla fine ci chiudiamo qui nell'angolo dall'altra parte prima facciamo la maglia bassa e dopo entriamo nell'aggancio e facciamo una maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo sfiliamo e poi lo agganciamo meglio fra le maglie il top è terminato guardiamoli insieme quindi questa è la parte di sotto questa è la parte di sopra con i ganci per legare al collo guardate semplicissimo da realizzare e soprattutto con pochissimo cotone tenete conto che di 50 grammi mi è rimasto questo ho fatto magari due giri e due giri perciò io penso che con 50 grammi lo fate almeno di questa misura gli altri veramente comunque un consumo irrisorio perché proprio per fare la margherita e utilizzare il rosa chiaro veramente pochissimo nella parte dietro per la parte davanti agganciato al collo sempre con un fiocchetto a seconda della misura che ci vuole nella parte davanti agganciato al collo sempre con un fiocchetto voi vi regolate se volete fare catenelle in più perché magari volete fare un fiocco più lungo oppure vi regolate un po' voi nella parte dietro se vi viene comunque vicino vicino alla schiena arriva potete optare o sempre per il gancetto e quindi legate direttamente con il fiocchetto oppure potete inserire un bottoncino e chiuderlo direttamente col bottoncino una bella idea per le nostre bimbe veramente con pochissimo cotone utilizzando la nostra mattonella granny triangolare margherite con queste due belle margherite perché quest'anno proprio va di moda questi fiori rialzati sia nei capi di abbigliamento e sia nelle borse quindi sono sempre graditi come come progetti io spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao